ecco vediamo miros canali il primo italiano in svezia a giocare a basket con una palla di neve gigante ecco vediamo siamo nel playground di karskuga il peso è un po più pesante quindi andrà a schiacciare con una palla di neve attenzione si annuncia il terzo tempo aspetta che ti devo inquadrare il canastro ci sei? vai pure hai chiazzato?